Partirà gennaio 2024 a riposto presso il centro sportivo Belagertari di Giampaolo Patanè il primo corso Dance for Oncology, unica sede nella provincia di Catania che ha accolto con entusiasmo il progetto di Carolyn Smith, ballerina, coreografa e insegnante internazionale di ballo, ideatrice del primo percorso di ballo per pazienti oncologici. La nostra fondatrice Carolyn Smith è stata testimone del potere di trasformazione della danza nel suo percorso contro il cancro. Dance for Oncology è un corso fatto apposta dalla maestra Carolyn Smith per i pazienti oncologici e aiuta a migliorare l'umore, a divertirsi, a essere più spensierati. Si ritrova diciamo l'entusiasmo, aiuta anche a migliorare la forma fisica attraverso attività coinvolgente di bassa intensità. Si socializza. Trovano anche nuovi amici con cui confrontarsi ma soprattutto senza giudicarsi. Siamo già stati formati a luglio del 2023, 50 maestri volontari perché parliamo di volontariato. Già a settembre sono partiti le prime 15 scuole e noi partiremo a gennaio 2024. Abbiamo questo onore e questa fortuna appunto di partire anche perché quando Carolyn ce l'ha proposto noi non abbiamo neanche esitato a dire sì. Assolutamente, siamo fieri, onorati di accogliere nella nostra struttura Dance for Oncology. Rivolto a donne e uomini maggiorenni attualmente in chemioterapia o radioterapia, il corso è stato sviluppato appositamente da Carolyn Smith insieme ad altri soci fondatori, tra cui la Fondazione Incontradonna Partner Scientifico, per consentire ai pazienti di trovare dei benefici per corpo e mente. Le lezioni sono indipendenti l'una dall'altra perché i pazienti potrebbero essere assenti per motivi fisici o emotivi ad alcune lezioni. Le coreografie sono state studiate appositamente da Carolyn Smith e sono alla portata di tutti e tutte prevedono l'utilizzo di una sedia che servirà anche per il riscaldamento iniziale, lo stretching finale e di uno specchio. Nei giorni scorsi il corso è stato presentato alla cittadinanza, anche l'amministrazione comunale di riposto si impegnerà a divulgarlo in quanto pubblico servizio. Ogni lezione è a sé, ogni lezione è motivante, è strutturata con un riscaldamento e poi si danza. Sono delle coreografie molto movimentate, sempre da bassa intensità, ma movimentate, molto divertenti, dove si trova veramente grande spensieratezza mentre si danza. Può aiutare, aiuta, aiuta tantissimo ad affrontare questo loro percorso. Aiuta a diminuire lo stress perché i pazienti oncologici soffrono moltissimo di stress e di ansia, anche debolezza muscolare durante le terapie di chemio e quindi questo percorso sicuramente aiuta, ma soprattutto interiormente, ad affrontare meglio il percorso. Noi come amministrazione comunale abbiamo subito risposto alla chiamata del maestro Gianpaolo Patanè, anche perché per noi è un vanto avere nel nostro territorio una scuola che a livello provinciale è l'unica che ha aderito a questo importante progetto e sappiamo quanto sia importante assistere donne e uomini durante le terapie oncologiche. Grazie 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 Grazie